Tonelli deve rimuovere immediatamente la sua palese incompatibilità e lasciare senza indugio la presidenza di TUA e quanto sostiene il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione di vigilanza della regione Mauro Febbo che spiega documenti alla mano come esistano due parelli inconfutabili che dichiarano l'incompatibilità di Tonelli. Il primo è firmato dall'avvocato Stefania Valeri, dirigente del servizio avvocatura regionale, che l'11 settembre in una nota inviata alla procura della Repubblica del Tribunale di Chieti, alla procura regionale della Corte dei Conti e a tutti i vertici regionali, ribadisce come Tonelli si trovi in una sussistenza di incompatibilità tra l'incarico di presidente di TUA e quello di amministratore unico di una società controllata dal comune di Pescara, cioè Pescara Energia. L'altro documento, continua Febbo, ne affirma del dottore Pierluigi Venditti, responsabile dell'anticorruzione interna a TUA, che rileva come Tonelli si trovi in una situazione di incompatibilità sia in un'ipotesi di violazione per presunti abusi nel conferimento degli incarichi legali e delle consulenze esterne. Oggi i dubbi vengono tutti confermati da atti ufficiali, tuona ancora il consigliere regionale Azzurro, che attacca direttamente Tonelli, Reo a suo dire, di non rendersi ancora conto dei danni che potrebbe causare con la sua incompatibilità, con gli atti approvati che potrebbero rivelarsi nulli, con gli incarichi conferiti in maniera illegittima. Per Febbo, TUA si sta esponendo a ricorsi e contenziosi milionari. Infine, da Forza Italia si chiede a Tonelli la pubblicazione della prima semestralità del bilancio 2018, dalla quale, secondo gli azzurri, si vincerebbero perdite anche sul bilancio 2017. Inoltre, si chiede di bloccare immediatamente tutta la procedura per la nomina di tre dirigenti, unitamente all'avviso per l'assunzione di 55 meccanici. Se entro 48 ore non rassegnerà le proprie dimissioni, conclude Febbo, sarà consegnata al difensore civico una busta chiusa con i tre nominativi dei futuri nuovi dirigenti vincitori del bando della TUA.